Ciao a tutti e bentornati al canale del sito swiftios.it nella sezione snipper. In questo snipper vedremo come contare quante volte un elemento è presente all'interno di un array, quindi creiamo la nostra array con alcuni dati di tipo stringa, quindi potremmo mettere Mario, Carlo, Francesco, Luca, Mauro, Mauro e poi magari ripetiamo. Ora, se noi vogliamo vedere quante volte viene ripetuta la stringa Francesco, possiamo utilizzare questo sistema, quindi si crea una costante di tipo ns.cont set e passiamo un array di qualunque dato, vedete, any. In questo caso noi passeremo mi array. adesso faremo la variabile, una costante, scusate, risultato e faremo il setCount.it e indicheremo cosa cercare, quindi print risultato, vedete esce, ci restituisce due ed effettivamente Francesco è presente due volte, quindi ci restituisce un intero con il conteggio di quante volte l'elemento è stato trovato all'interno dell'array. Bene, per questo snipper è tutto, vi ricordo che per domande o chiarimenti potete visitare il sito swiftios.it o commentare questo video. grazie e buona programmazione a tutti. grazie 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 a tutti.